Buongiorno e benvenuti alla prima edizione, al primo appuntamento con l'informazione sulla 7 con la rassegna stampa di Omnibus. Siamo dunque arrivati anche alla fine di aprile, fra poco andremo a vedere i titoli che oggi campeggiano sui quotidiani in edicola. Naturalmente l'attenzione è ancora sulla vicenda degli ex terroristi rossi arrestati in Francia, già liberi in libertà vigilata perché non sussistono a detta dei giudici francesi rischi di fuga e chiaramente c'è sgomento da parte dei parenti delle vittime, un argomento che ancora terrabanco per parecchio tempo perché i tempi per le procedure, per l'estradizione saranno piuttosto lunghe. Naturalmente si parla sui giornali anche dell'approvazione definitiva del recovery plan che oggi verrà trasmesso a Bruxelles, una manovra complessiva da 248 miliardi che chiaramente darà modo al governo di attuare tutte quelle iniziative, quelle procedure, quelle opere per rilanciare il Paese. Si parla naturalmente anche di vaccini, di Covid, è inevitabile, siamo ancora in piena pandemia. Oggi, scusate, si riunisce la cabina di regia, alcune regioni sperano di cambiare colore, soprattutto la Sicilia, la Sardegna, insomma si cerca anche di fare il punto su quello che è l'andamento della curva in proiezione futura, visto che l'estate arriverà fra breve e naturalmente rimane ancora ad attualità il tema del coprifuoco, anche se poi il governo ha fissato a metà maggio la revisione in base a quelli che saranno i numeri del virus. Andiamo subito sulla prima pagina del Corriere della Sera, il titolo centrale, vaccini corsa delle regioni, via libera al piano recovery, statali stop all'obbligo del lavoro da casa al 50%, sì perché ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato anche il decreto proroghe e non c'è più la limitazione di un dipendente su due in presenza nella pubblica amministrazione. In Lombardia ieri oltre 110 mila somministrazioni, caos quarantena per chi arriva in aereo dall'India e qui c'è ovviamente la grande preoccupazione per quella che è la variante indiana. Sempre dalla Corriere della Sera l'argomento al quale facevamo riferimento prima, già liberi gli ex terroristi arrestati in Francia, i parenti delle vittime spariranno ancora intellettuali e artisti a Parigi. La rete per gli esulisti Stefano Montefiori firma questo pezzo, da Valeria Bruni tedesca a Jean-Luc Godard, appello di intellettuali ed artisti al presidente francese Macron contro l'estradizione degli ex terroristi. La figlia del giudice Girolamo Minervini, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980, invece commenta così. Un'altra beffa, io non perdono. Ieri intanto si erano costituiti anche due dei tre latitanti, Bergamin e Ventura e come detto appunto i giudici hanno deciso in questa direzione. Dalla pagina, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, la foto abbastanza emblematica di quelle che sono le condizioni di Alexander Navalny, l'oppositore di Putin, l'oppositore in carcere dopo lo sciopero della fame, pallido, scavato, dimagrito. Così è riapparso Navalny, quasi riconoscibile, nel collegamento video dal carcere dove è detenuto il dissidente russo ha sospeso da poco uno sciopero della fame. Ancora dal Corriere della Sera la storia di Cronaca, la storia di Cuneo e il gioielliere Mario Roggero che ha ucciso, ha sparato e ucciso due rapinatori che avevano tentato per un colpo nel suo negozio. Il PM di Asti lo ha indagato per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa. Vi segnalo sempre dalla Corriere della Sera l'editoriale di Antonio Polito il dovere di pesare in Europa un'analisi di quelli che sono stati gli sviluppi nei rapporti con l'Europa dall'avvento di Mario Draghi nel ruolo di Premier. Si dice, scrive Polito, si dice che il carisma personale di Mario Draghi e rispetto di cui è circondato abbiano favorito e accelerato questo processo di upgrading del nostro paese nelle gerarchie continentali. Sicuramente è vero, aveva ragione Giancarlo Giorgetti quando si chiedeva come potessimo nel pieno di una crisi storica lasciare in panchina il nostro uomo. Migliore ma la politica internazionale non è mai solo chimiche e relazioni personali, i fattori più strutturali devono essere alla base di questa nuova fase. Così Antonio Polito sul Corriere della Sera. Andiamo ad aprire la prima pagina della Repubblica che apre con un titolo completamente diverso. Giustizia, i corvi del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura. Indagine sulla diffusione di verbali segretati con rivelazioni sull'allora Premier Conte, su molte toghe. Un PM di Milano ammette, li ho dati a Davigo, poi sono stati spediti dal Consiglio Superiore ai giornali. Gli inquirenti, una manovra per condizionare magistratura e politica. Ci fermiamo a pubblicità, poi la seconda parte della nostra Rassegna Stampa. Di nuovo buongiorno, seconda parte della nostra Rassegna Stampa. Eravamo sulla prima pagina della Repubblica, ci torniamo. Abbiamo già visto il titolo d'apertura che lancia l'inchiesta sulla CSM. Gli inquirenti, una manovra per condizionare magistratura e politica, cosa? La divulgazione di alcuni documenti segretati. Decine di pagine con nomi di altissimi magistrati politici, organi istituzionali, fino all'allora Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. È iniziato nell'aprile 2020 il tentativo di condizionare la vita politica e giudiziaria in Italia con la diffusione di verbali segreti dall'interno del CSM. Parlare nei sette verbali del 2019 all'avvocato Piero Amara, uno dei protagonisti del caso Palamara. E poi il commento di Carlo Bonini, una rifondazione necessaria, che pensava che le convulsioni della magistratura italiana e la compromissione del suo organo di autogoverno avessero conosciuto il loro ACME con il caso Palamara. Si, sbagliava. Ancora dalla prima pagina in Repubblica una foto di Filippo Mondelli, la canottiere già campione del mondo, scomparso a soli 26 anni per le conseguenze di un osteosarcoma. Filippo, la lunga lotta da campione del mondo. Ancora da Repubblica il commento di Gustavo Zagrebelsky, la pena e l'umanità a proposito del caso appunto dei terroristi, la Francia scarcera subito gli italiani arrestati. Ancora da Repubblica parliamo di vaccini perché intanto il generale Filvolo conferma che siamo vicini a 500 mila vaccini giornalieri. Ma AstraZeneca è un rebus, la seconda dose under 60 perché il vaccino anglo-svedese è stato dichiarato idoneo per gli over 60 e tutti gli under 60 che hanno già ricevuto la prima somministrazione adesso si chiedono cosa accadrà, cosa bisognerà fare se proseguire con AstraZeneca oppure cambiare farmaco. Lasciamo la Repubblica, siamo alla prima pagina della stampa, eccola qui, il pass vaccinale non va, mette a rischio la privacy. Intervista al garante, Filvolo aggiorna il piano, le chiamate in base all'età, la valle d'Aosta torna rossa, Sardegna in arancione, raggiunte le 500 mila iniezioni, così scrive la stampa. Quindi secondo la stampa il risultato che il generale Filvolo voleva raggiungere è già stato toccato con le 500 mila somministrazioni. In taglio centrale parla il gioielliere indagato, polemiche sulla legittima difesa, stavano sparando a mia moglie, ho dovuto uccidere quei rapinatori, come detto insomma il caso di Grinzane Cavour che ha portato poi il PM di Asti a inquisire il gioielliere appunto per eccesso di legittima difesa. È un atto praticamente scontato, ma insomma il racconto di Rogero in quei momenti di grande paura anche perché Rogero era già stato oggetto di altri episodi analoghi, meno drammatici, ma insomma sicuramente meno drammatici nell'epilogo, ma sicuramente simili con tentativi di rapina. Siamo ancora sulla stampa perché c'è un commento di Elsa Fornero perché quota 100 fa male ai giovani. Una riflessione dell'ex ministro Fornero per quella che sarà poi l'ultima stagione di quota 100, un provvedimento destinato a esaurirsi e cercheremo di capire poi cosa il governo adotterà, quale norma adotterà in appunto sostituzione di quota 100 come detta destinata ad essere archiviata definitivamente. Gli statali in ufficio da lunedì, scrive il messaggero, salta il lavoro agile al 50%, spiagge rinvio sulle concessioni, recovery a Bruxelles, tutte le cartelle spostate di un mese, a giugno ti rientro soft del debito per chi ha perso il 30%. E anche sul messaggero c'è l'editoriale Paolo Balduzzi, il carico delle pensioni sul piano di ripresa, oltre quota 100 ovviamente le pensioni. Sono un tema caldo, un tema di grande interesse, di grande attenzione. In taglio centrale una foto che racconta così la disavventura, mettiamola in questi termini, della Roma-Manchester contro lo United nell'andata della semifinale di Europa League. Il sogno dura un tempo, giallorossi che avevano chiuso in vantaggio, il primo tempo poi sono stati letteralmente travolti tra lo United con il 6-2 finale. Ancora pronti a toccare 500.000 dosi al giorno, qui l'obiettivo è ancora non raggiunto, secondo il messaggero la spiega di Figliuolo. A settembre sarà vaccinato l'80% degli italiani. Intanto a proposito dei fatti di Parigi, due terroristi rossi si costituiscono, sono Bergamin e Ventura, la Francia libera tutti, Bergamin e Ventura si consegnano a Parigi, ma il giudice manda ai domiciliari i sette arrestati. Lasciamo il messaggero, andiamo a vedere la prima pagina del fatto quotidiano, Figliuolo smentito, vaccini a rallenti. Qui insomma come vedete ogni testata poi fa una propria interpretazione dei dati, anche se insomma dovrebbero essere informazioni oggettive. I dati quota 500.000 lontana, indietro sulla fascia 60-79. Fanadini di coda, scrive il fatto, il generale ne aveva promessi mezzo milione al giorno a metà aprile, però martedì erano 376.000 e sugli under 80 siamo in fondo alle classifiche dell'Unione Europea. Così il fatto, vediamo Libero, ecco qui primo maggio la festa dei disoccupati, titola così Libero nel suo titolo d'apertura in prima pagina, altro che giornata del lavoro, l'Italia è rimasta ferma mesi e un migliore di persone ha perso il posto, ma sindacati e giunte PD di fanno chiudere i negozi, questo è il commento di Libero. Poi due casi, vi spiego cosa provo una ragazza violentata, Anna Maria Bernardini de Pace, la nota avvocatessa e poi l'ex modella che vuole essere risarcita, accusa Ronaldo di stupro e chiede 65 milioni alla fuoriclasse della Juventus. Sempre da Libero perché stiamo con lui, Di Pietro Senaldi, la gioielliere è una vittima, non un killer, è così il commento del direttore di Libero. Che lasciamo per andare sul domani, tassare le grandi multinazionali, domani sceglie un titolo di respiro internazionale e si rifà al discorso dei 100 giorni tenuto da Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti, al Congresso. Parla Matt Garner, l'autore del report sulle 55 aziende che pagano zero tasse negli Stati Uniti, citato dal Presidente, un sistema di elusione perfettamente legale, peggiorato dalla metà degli anni e 90. Ancora dal domani, ecco qui la foto del Presidente Joe Biden nel corso appunto del suo discorso al Congresso. Lasciamo anche il domani, diamo uno sguardo al giornale che titola così nella sua apertura chi difende i terroristi, brigatisti già liberi, intellettuali e politici, ecco la rete segreta che li ha protetti e la sorella di Carla Bruni firma l'appello contro l'arresto. Flicche, ma che vendetta, rieducarli anche da anziani, ancora dal giornale spara ai rapinatori, indagato, ho la mia vita oppure la loro. Dietro un gesto istintivo non c'è cinismo, ma rabbia. Ancora sui vaccini, ecco qui il giornale, record giornaliero, l'Italia tocca 500 mila vaccini grazie allo sprint Lombardo. Come avete visto insomma ci sono varie interpretazioni ma insomma torno a dire i dati dovrebbero essere oggettivi. La prima pagina della verità, altri due brigatisti rossi si consegnano ma i giudici rimettono tutti in libertà, buoni con i terroristi, duri con chi si difende. Poi nel caso Grillo irrompe anche Corona, il caso Grillo è il caso del figlio Ciro indagato, accusato di stupro di gruppo. Speranza spieghi perché cambiò il protocollo per scoprire il Covid, nuova accusa dei parenti delle vittime di Bergamo. Il ministro tolse una definizione di rischio e così impedì di identificare il virus in tempo. Poi scaricò la colpa sull'OMS. Così la verità che troverete oggi in edicola. Diamo uno sguardo anche ad avvenire. Pulizia di primavera, il titolo del quotidiano della conferenza episcopale. Motu proprio, anticorruzione del Papa per il Vaticano, personale incensurato, niente investimenti in paradisi fiscali o società non etiche. No, a regali costosi. Poi licenze e solidarietà per il vaccino a tutti. Anche avvenire entra nell'argomento terroristi in libertà vigilata, estradizione e tempi lunghi. Due ex estremisti rossi si costituiscono. In Italia la via della riconciliazione. Siamo alle battute conclusive. Vediamo anche come apre oggi il sole 24 ore. Recovery via libera al progetto Draghi. Decreto da 35 miliardi per investimenti. Siamo arrivati con questo alla fine della nostra rassegna stampa. Tra poco Paolo Sottocorona con le notizie, le informazioni sul E-Meteo e poi a seguire la prima edizione, il Tg La 7. Grazie e buona giornata. Sì, buongiorno. Abbiamo a che fare con un po' di nuvole al momento sull'Italia. Vedete, ce ne sono anche al sud. Sono in qualche caso più bianche, cioè un pochino più consistenti. Ma di piogge al momento. Qualcuna debolissima al nord, ma non c'è molto. Vediamo però come si svolge, come si sviluppa la situazione. Fino a metà giornata, vedete al centro e al sud piogge niente, anzi addirittura dovrebbero aprirsi più schiarite. Qualche debole pioggia riguarda gran parte del nord l'alta Toscana. Sono in prevalenza piogge molto deboli, quindi segue un po' la situazione del momento. Vediamo nel pomeriggio, serata, vedete che forse aumenta qualche nuvola al centro-sud, dove però di piogge non ce ne sono, a parte appunto la Toscana settentrionale, l'Appennino tosco-emiliano. Sul resto del nord cominciano a comparire queste macchie che vanno più verso l'azzurro. Quindi una quantità di pioggia complessiva leggermente superiore, ma sempre a livello di moderata, sì e no. Giornata di domani. Aumentano le piogge al nord, come vedete, aumenta la zona in blu, compaiono delle zone col colore che arriva fino al giallo, che potrebbero essere fenomeni intensi, certo molto ristretti, molto isolati, però nel complesso la giornata è grigia con molte piogge, questa è un po' l'idea. Qualche debole pioggia arriva al centro, soprattutto sulle zone interne, quindi sull'Appennino, presumibilmente nel pomeriggio, al sud, ancora al di fuori da questa circolazione. Non è una perturbazione, è una circolazione di aria instabile, la pressione è un po' più bassa, quindi tempo appunto più incerto che altro. Vediamo anche la giornata di domenica, si apre qualche schiarita sulle zone di nord-ovest, anche su qualche zona di pianura in Emilia-Romagna, centro e sud sempre con qualche nuvola, forse qualche debolissima pioggia, ma vedete che il grosso delle precipitazioni riguarda il nord e domenica soprattutto il nord-est. Le minime di questa mattina non sono cambiate molto rispetto a ieri, i valori sono più che discreti per la stagione, particolarmente tranquilli i mari con i quali chiudiamo, perché questo colore celeste o al più arriva all'azzurro, localmente mosso, il canale di Sardegna, allo stretto di Sicilia, allo Ionio, gli altri sono assolutamente tranquilli, beati loro. Se volete ci vediamo alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Roberto Bernabai, a più tardi.